Ecco qui abbiamo i nostri amici, abbiamo persone lì che stanno facendo le telefonate, c'è Ciandrica, c'è Michelle, c'è la nostra brava ragazza qua che viene sempre da parte di Nelum, abbiamo la signora qui col bimbo, figlio di Munir, qui c'è Martin, benissimo, Anna Violetta, c'è anche Lito, bentornato Lito, bentornato, Anna Violetta, Anna Violetta Mocanu, e questo prendi per il bimbo questo qui, prendi. Sì, varie persone che vanno, che vengono, grazie a Dio, vediamo qui, abbiamo Abdelmutaleb che è stato dalla signora Mitti, ha lavorato quattro mesi fuori Roma, è tornato, dimagrito pure, vedete poi c'è anche Adalberto qui che invece è ingrassato, e poi c'è questa brava ragazza qua, bentornata, bentornata, e c'è Nella che è tornata pure oggi, e ci hanno portato le cose buone, guardate che bel sughetto che c'è qua, verdura, preparando tante cose, mangiare per stasera, sì, tra un paio d'ore si cena, Sì, vuole la lista lavoro, guardate qui le belle cose che ci sono qua, guardate, tante cose buone, grazie a Dio, tante cose buone, ecco qui anche questo bello caldo, attento a non appoggiarlo qui perché questo è un tavolo importante, appoggialo sopra, sopra qua così, sopra qua così, ecco qui vuole la lista lavoro, vieni, questo è un tavolo quando io avevo pochi anni, ho studiato qui, e ci mangiavamo come la famiglia, eccetera, ecco qui la lista lavoro per Lito. Ecco qui Lito che vuole la lista lavoro, tagliamo questa cosa qua così, taglia, taglia cuci, taglia cuci, ecco qui tagliamo, anche c'è il bambino, anche c'è il bambino, sì, ecco qui la lista, abbiamo tagliato la lista qui, diamo, tagliato e mangiato, ecco qua, ecco, grazie, grazie Lito, Dio ti benedica, grazie. Siedi con noi, ma devi andare via già? Sì, sì. E mangia qualcosa con noi, no? No, grazie. Domani? Dopodomani? Benissimo, grazie caro, saluti a tutti quanti, eh? Ciao, ciao a tutti. Ciao. Un applauso a questo bravo ragazzo Lito. Grazie caro, grazie per la visita, grazie. Ecco qui, la lista è caduta perché c'è il ventilatore, siamo a ottobre ma fa ancora un po' calduccio, umido, umido. Noi ringraziamo il Signore per le persone che vanno e che vengono. Sì, e poi adesso ci sarà la lettura della parola e si mangerà qualcosa insieme e grazie a Dio.